Mi fa molto piacere che a Ferrara Odi si sia siglata questa ulteriore collaborazione che consiste in uno sconto ai nostri soci da parte di Coldiretti e di Campagna Amica per i mercati che ci sono in via Montebello e qui a Grisù e tutti i soci che compreranno i prodotti a chilometro zero che vengono venduti in questi mercati avranno uno sconto del 10% per una spesa che superi i 10 euro. Questo è importante perché aiuta i nostri soci a risparmiare e soprattutto aiuta le nostre campagne per promuovere i prodotti che sono a chilometro zero e che sono prodotti garantiti e sicuri. Oggi siamo qua per rafforzare il nostro impegno con Avis per rafforzare sempre di più il rapporto produttori-consumatori e soprattutto per avere una sensibilità sociale che in questo momento ci permette di vivere una vita un po' più semplice e non pensare sempre a tutte le problematiche che abbiamo. Questo giorno per i nostri donatori è sicuramente un giorno che gli permette di fare una spesa anche più sostenibile e per valorizzare i nostri agrimercati che abbiamo nella provincia di Ferrara. Anche per dare una nuova importanza alla nostra provincia che noi ci teniamo molto, dare coraggio ai nostri produttori che portano i loro prodotti in città. Diamo la possibilità ai nostri consumatori di sapere come va prodotto quello che mangia e quello che tutti i giorni si trova sul tavolo. Quindi una valorizzazione della nostra provincia di Campania Mica e della vita sociale che insieme a Avis ci prepariamo ad affrontare come è stato negli anni scorsi, sarà sempre migliore nei prossimi anni. Noi siamo felicissimi di aver sottoscritto questa convenzione oggi, anche perché credo che sia una delle prime convenzioni che facciamo a favore dei donatori. Quando verranno nei nostri punti di raccolta, ma direi non solamente a Ferrara, possiamo estenderla anche fuori, cioè troveranno tutte le informazioni che sono qua in questo manifesto qua. È una convenzione che dà soddisfazione ai donatori, perché in questo modo qua noi facciamo anche un risparmio di carattere economiche e poi diamo dei prodotti che sono prodotti genuini, proprio frutto della terra. E poi aiutiamo anche i nostri agricoltori in un momento così particolare, soprattutto non solo per la pandemia, ma anche per quello che succede nel mondo. Perciò noi siamo felicissimi di continuare questa collaborazione con Campagna Amica, voglio dire in questo caso con anche il mercato, l'abbiamo sottoscritto, e speriamo che in futuro ci sia soddisfazione in ambo le parti, perché così fanno una buona spesa ai nostri donatori. Grazie.